Lunedì 28 ottobre alle 21.50 l'ambulanza è venuta a prendermi per portarmi in ospedale e ci arriviamo ragazzi facciamo un attimino un passo indietro ciao a tutti ragazzi burloni bentornati in questo nuovo video era da tanto che non registravo un video perché i video che avete visto fino ad ora erano tutti pre-registrati per fortuna mi dispiace raga che avete visto solo speedrun e so anche che ne ha risentito il canale però purtroppo raga avevo queste e dovevo caricare qualcosa per non lasciare il canale scoperto sono stato male raga mi sono beccato una brutta cosa ma ci arriviamo partiamo dall'inizio quando è che ho iniziato a sentirmi un pochettino così così venerdì 25 ottobre sono andato a casa della mia ragazza per il suo compleanno e già diciamo che la mattina sentivo un po di mal di testa ma nulla di c'è nulla di che ragazzi probabilmente il giovedì quando sono andato a milano per delle riunioni che avevo potrei aver preso freddo e quindi ho pensato che potesse essere quello quindi venerdì sono andato dalla mia ragazza come capita ogni due settimane noi ci dividiamo le settimane sono andato abbiamo mangiato la sera tranquillamente ma non stavo così male sabato mattina sabato 26 ho iniziato a avere un po quel campanello d'allarme che mi potesse venire un'influenza cioè sentivo che il mio corpo non reagiva completamente a tutto quello che facevo ero stanco ero spossato mal di testa eccetera eccetera tant'è che ho preso un bruffen l'ibuprofene per sentirmi meglio per il mal di testa però diciamo che dopo l'ibuprofene raga mi sono sentito comunque meglio e ho deciso di continuare la giornata tranquillamente anche perché la sera avevamo il nostro compleanno festeggiavamo il mio compleanno il compleanno della mia ragazza perché lei lo festeggia il 25 e il 18 abbiamo deciso di fare un ritrovo in hamburgeria insieme ai nostri amici e niente siamo andati tranquillamente tutto ok a parte che l'hamburger che faceva schifo quindi a parte quello nient'altro usciti dal posto ho iniziato a sentire molto freddo e gli altri non avevano freddo quindi questa cosa effettivamente vi ha fatto dire sta succedendo qualcosa nel mio corpo sta succedendo qualcosa e questa cosa mi ha fatto dire devo tornare subito a casa devo tornare subito a casa solo che avevamo prenotato il cinema lì vicino per andare a vedere un horror tutti assieme e ho detto vabbè dai andiamo al cinema tanto che vuoi che sia sarà sicuramente un colpo di freddo sai quando sai quando comunque stai un po' così così magari non vai a pensare che hai l'influenza e quindi ho detto ma sì andiamo abbiamo visto il film tranquillamente abbiamo finito il film siamo usciti e lì ho detto porca miseria sto male inizio a sentirmi veramente male siamo andati verso casa mi sono addormentato istantaneamente e domenica 26 ottobre domenica 27 ottobre mi sono svegliato ero storto raga ero veramente piegato in due e non avevo febbre però non avevo niente dovevo tornare a casa perché la domenica mattina poi torno a casa ho preso la macchina da milano sono tornato verso monza e durante il tragitto sentivo che raga c'era qualcosa che non stava andando perché tossivo un pochettino ma non avevo tosse mal di gola avevo un pochettino del così no quando hai un po' di catarro così però niente cioè niente di che sono tornato a casa mi sono buttato sul divano devastato raga anche perché ero un po' triste perché il 27 era il complano di mio papà peraltro tutti a ottobre facciamo gli anni e non ho potuto festeggiarlo a modo raga sinceramente e quindi ero un po' triste anche per quello solo che domenica pomeriggio intorno alle 16 e 30 e 17 se non ricordo bene ho deciso di misurarmi la febbre ho deciso di misurarmi la febbre e raga 38 e 2 38 e 1 38 e 5 cavolo mi è venuta l'influenza porca miseria il mio primo pensiero è stato domani non posso registrare domani non posso andare a milano anche perché avevo un incontro con i ragazzi di 478 a milano e per il mio progetto delle auto e ho dovuto saltarlo e tutta la settimana raga ero pieno di riunioni giovedì dovevo andare a milano mercoledì dovevo andare la sera a bergamo martedì c'è un disastro raga un disastro però sapete benissimo che chi fa il nostro lavoro è sempre dedito a questa cosa quindi ci sta che io pensassi queste cose solo che domenica sera prima di andare a letto ho iniziato a sentirmi veramente tanto male raga tanto male che avevo stavo ghiacciando così totale veramente una roba però domenica sera è stato diciamo l'input che mi ha fatto dire mi sto ammalando veramente forte raga non era solo un'influenza normale stavo ghiacciando avevo freddissimo mal di testa solo che non avevo tosse non avevo mal di golani avevo solo influenza e un po' di difficoltà respiratorie tant'è che in quel momento ho detto ho il covid ho il covid ero un po' preoccupato perché mamma mia mamma mia raga avrei tipo infettato tutta la mia famiglia e non volevo questa cosa mi sono addormentato e lunedì mattina lunedì 28 ottobre è stato veramente il culmine massimo della situazione perché in pochissimo tempo mi sono veramente piegato in due raga ero veramente k.o. totalmente e avevo febbre alta sono arrivato a 39 poi quella che mi sono misurato era 39 prendevo la tachipirina chiaramente senza dirvi tutto quello che prendevo prendevo comunque i farmaci non vi preoccupate ma la sera ho chiamato la guardia medica perché mi sentivo veramente troppo male raga avevo bisogno di capire se dovessi prendere un antibiotico o meno la guardia medica mi ha detto guarda cercate di trovare un saturimetro per vedere la saturazione del sangue l'ossigenazione del sangue per fortuna la nostra infermiera tra virgolette per fortuna ora capirete il perché è un'infermiera aveva un saturimetro che sono quegli aggeggi che ti misurano l'ossigenazione del sangue e diciamo che deve essere dai 95 in su infatti la guardia medica mi ha detto se è sotto i 95 richiamateci troviamo il saturimetro metto il saturimetro raga sono sbiancato avevo 89 90 91 ho detto porca miseria sto veramente male qua e anche in quel momento dato è covid perché il covid ti abbassava l'ossigenazione del sangue mi sono veramente tanto spaventato raga quando vi sono 90 mi sono spaventato porca miseria qua la situazione non è non è rosia abbiamo richiamato la guardia medica che ci ha detto di chiamare il 118 quindi insomma avete capito abbiamo chiamato il 118 in 8 minuti 9 minuti 10 minuti quelli che sono stati è arrivata l'ambulanza mi ha preso tutti i parametri vitali mentre ero nel letto e era tutto ok diciamo che il saturimetro mi hanno detto che quelli a casa sono da buttare praticamente perché il loro saturimetro segnava 94 95 quindi un po meglio la situazione però mi hanno visto che effettivamente avevo un po di problemi respiratori e non avevo la tosse cioè il fatto che non avessi la tosse dicevano boh strano che non abbia la tosse hanno preso mi hanno portato all'ospedale al politico al policlinico di monza ci siamo ci siamo diretti e mi hanno fatto subito delle analisi mi hanno fatto come prima cosa il tampone negativo wow ho detto meno male almeno non ho infettato i miei genitori mi hanno fatto varie analisi e esami del sangue eccetera eccetera e il dottore gentilissimo raga non ho mai visto un pronto soccorso così così pronto porca miseria sono arrivato lì e mi ha mi ha misurato tutto sapete quando vi mette il coso di ferro che con le orecchie non so come si chiama raga quel coso lì e mi ha detto non mi piace come respiri secondo me c'è qualcosa lì raga sbiancato di nuovo in due ti mandiamo a fare una lastra al torace va bene mi hanno fatto una lastra al torace e in 20 minuti abbiamo avuto l'esito sono entrato e mi hanno detto che avevo una bruttissima bronchite raga meno male che non era polmonite chiaramente però avevo una bruttissima bronchite tant'è che si era un po' preso male il medico del momento e mi ha detto qua bisogna prendere subito l'antibiotico perché sennò domani peggiori alle due di notte siamo riusciti ad andare a trovare l'antibiotico e tutte le varie cose che dovevo prendere e martedì mattina c'è lunedì sera ho iniziato il ciclo dell'antibiotico 1 ogni 12 ore quindi la sera a mezzanotte diciamo e poi alle 12 il martedì in realtà nessun miglioramento ma chiaramente l'antibiotica bisogno di 24 48 ore e raga il martedì pure è stato veramente veramente critica come cosa mercoledì mattina mi sono svegliato che non avevo la febbre primo giorno senza 39 39 e mezzo di febbre quindi meno male come cosa e cosa è successo che durante la giornata però mi sentivo fiacco mi è venuta la tosse il catarro quello probabilmente per l'aerosol che mi ha un po' fluidificato tutto giovedì quindi ieri è stato il primo giorno dopo il primo giorno di febbre e ragazzi mi sentivo peggio di lunedì cioè senza febbre mi sentivo peggio dolori ovunque mal di testa fuori da ogni logica veramente qualcosa di pazzesco pensavo veramente raga di non uscirne più da questa situazione poi considerate che non vi ho detto tutto ma non mangiavo ho perso 5 chili in quattro giorni perché non mi veniva da mangiare mangiavo qualcosa vomita mi veniva da vomitare cioè quindi era veramente difficile per fortuna che bevevo tantissimo quello riuscivo tranquillamente giovedì passato sempre ko mi sono svegliato quest'oggi che un pochettino mi sento meglio adesso stiamo sto cercando di rimettermi un pochettino al lavoro anche per muovermi un pochettino per fare un po di cose ora vediamo quanto durerà oggi però sicuramente fra un'oretta mi rimetto di là nel letto perché secondo me sarò ko per fortuna viene anche la mia ragazza che mi fa la compagnia ma ragazzi in questi sette giorni ne sono successe di tutti gastroenterite meno male che c'è la mia mamma perché ragazzi veramente non avete idea di cosa di che cosa è successo non entro nei particolari ma è stato un disastro è stato un disastro volevo raccontarvelo perché soprattutto i ragazzi in instagram volevano sapere seguitemi su instagram raga perché lì do tutte le news tipo subito quando succedono le cose io vi saluto ragazzi spero che ci rivedremo domani con un video di minecraft e ciao a tutti